Dunque, vediamo di fare un po' il punto della situazione con il nostro filosofo esperto in spiritualità, lui è Luciano Debei, che innanzitutto ringrazio ancora una volta per aver accettato questa ulteriore, più che intervista, riflessione al pubblico. Cosa possiamo dire all'uomo, cioè quale messaggio ti senti di dare ai nostri radio e telespedatori? In termini concreti io mi sento semplicemente di fare una riflessione molto profonda, tornare a una vita parca, rinunciare al superfluo che non serve a nulla, rigettare tutto il consumismo, quello di basso livello, eliminare completamente la pubblicità, eliminare i programmi sciocchi e stupidi, cercare di fare una selezione, perché se noi non cominciamo a fare questo, meglio piuttosto andare in un campo, in un prato e sdraiarsi sul campo e guardare il cielo, quando purtroppo ce lo consentono di vederlo, perché adesso anche avremo questo problema. Detto questo, quindi è meglio passare molto tempo da soli, piuttosto che davanti a una televisione. Oggi le persone se non accendono la televisione si sentono nervose, si sentono spaurite, si sentono a disagio. Ecco, questo non deve succedere. Noi dobbiamo star bene anche da soli o comunque con persone in buona compagnia e in serenità. Quindi eliminare completamente intanto le catene che ci legano a questi poteri occulti. Ecco, allora potremmo dire così, vediamo di sintonizzare meglio il telecomando, selezioniamo bene queste televisioni, questi canali che ci arrivano in casa. Magari anche solo uno o due, però diciamo almeno lì abbiamo un po' un orientamento, anche per capire cosa succede insomma. Io credo, ripeto, che avere un flash delle notizie è giusto che uno le debba avere a livello nazionale e internazionale, non è questo il punto, ma bastano cinque minuti per avere le notizie, le informazioni. Tutto il resto è solamente spazzatura. Tutti qui i programmi di dibattiti, di discussioni politiche, per esempio, che non portano, non approdano a nulla. Noi ci stiamo dibattendo su questioni di politica che vanno avanti da decenni. Dov'è la soluzione? Se non quello di ingrassare questi programmi e magari farci anche un fegato molto grosso. Meglio uscire all'aria aperta, farsi una bella passeggiata e guardare la natura ancora per quanto è possibile farlo. Sì, infatti, anche perché proprio oggi se ne parlava con dei colleghi, stanno cementificando un po' tutto l'ambiente. Dopo, ecco, vedi ad esempio l'acqua che arriva nelle case della gente, con i danni, quindi con sofferenze, disagi, eccetera. Ecco, appunto, giustamente ha detto un bene perché ci stanno toccando anche la natura, cioè l'ambiente circostante. Posso aggiungere un'ultima, brevissima cosa? Ecco, direi anche selezionare gli amici, nel senso che cercate gli amici che possono dare un consiglio, in questo senso, di aiuto e non certamente di degrado, perché parlare ancora di cose frivole come lo sport, ma non lo sport in quanto tale, perché a me piace vedere anche una partita in modo sereno. Vinca il migliore, bianco o nero, rosso che sia, non ha importanza. Quando vediamo che girano tantissimi soldi e la gente, come ad esempio in Veneto, nel nord Italia, perde il lavoro, perde anche la casa. Il mitico nord-est del Veneto, conosciuto come la regione ricca, tra quelle che rappresentano un po' la locomotiva d'Italia e siamo arrivati a questo, ecco, fa veramente pensare, no? Cioè, quindi perché... ...i problemi seri. Ecco, perché vedere delle situazioni anche sportive dove girano miliardi in maniera... cioè, è una cosa veramente vergognosa. Per esempio, ecco, un'ultima cosa, anche se purtroppo lo spazio... ma una cosa che a me dispiace moltissimo è quello che hanno distrutto il piccolo artigiano, il piccolo commerciante. Ecco, il nerbo della nostra economia, in particolar modo nel nord-est, è fatto di piccole imprese artigianali e noi dovremo alimentare perché la creatività che è insita nel nostro DNA latino-italiano è proprio nella piccola industria che noi sviluppiamo questa creatività. Non nella grande industria, che ovviamente siamo solo di numeri e delle macchine. Quindi l'essere umano si dimostra che ha le condizioni per crescere meglio, anche se svolge un lavoro artigianale creativo. Ecco, di fronte a questa situazione, cioè, io penso ai figli. Adesso io non ne ho, ad esempio, però quando vedo dei bambini piccoli, dico, guarda, potrebbero essere, potenzialmente potrebbero essere anche miei, no? Ma che futuro gli diamo a sti ragazzi, a sti bambini? Bambini, poi ragazzi, eccetera? Purtroppo, se andiamo avanti così, ripeto, io vedo una estrema situazione drammatica, perché io sono convinto, lo dico qui, potrei essere anche smentito, perché anzi, mi piacerebbe essere smentito, ma io ho forti perplessità, forti dubbi, che nell'arco di pochi anni, 4-5 anni, chi dovrà accedere nel mondo del lavoro, i giovani, dovranno sottostare all'imposizione di avere un microchips sotto la pelle. Ai ai ai, speriamo di no? Io mi avro molto di no, ma se il trend, diciamo, del decadimento dell'essere umano nel mondo del lavoro, lo stiamo toccando con mano tutti i giorni, quindi non sono io certo che pavento certe situazioni, ma già intanto lo stanno presentando come una possibilità benefica per loro, i grandi poteri, perché uno possa avere meglio agevolazione di accesso in determinate situazioni economiche come le banche, essere controllato nel mondo del lavoro, eccetera, ma poi alla fine quello che a loro interessa è il controllo dell'essere umano. Ecco, è qua il punto. Quindi deduco che ci sia, come dire, una regia occulta che è da ricercarsi in quelle zone dove c'è tanto, sì benessere, ma tanti accumuli di soldi, da lì poi emerge il potere economico finanziario. Due mila anni fa Gesù ha detto, quel grande maestro che è stato Gesù ha detto me ne vado perché sta arrivando il Signore di questo mondo, due mila anni fa. Il Signore di questo mondo è ancora qui, più potente di prima, grazie alla tecnologia che ha elaborato, perché può controllare masse sempre più enormi di persone, cioè di menti, attraverso la tecnologia. Prima non poteva farlo, prima poteva farlo limitatamente a certe condizioni, ma questa forma piramidale che ha creato, che vuole creare, ovviamente crea di benefici alcuni piccoli ceti che si servono per essere aiutati e quindi li vediamo nella politica, nella religione, tutta situazione di grandi privilegi che non devono essere toccati. Tutto il resto ovviamente deve essere sfruttato. Allora senti, non vi lascerò soli, ritornerò. Se ritorna e trova questa situazione, ma io credo che da dove sia qui, poteri che ha già vede come sta andando questo pianeta. Ecco, cosa farà? Non penso che verrà a dare le caramelline come qualcuno ci vuol far credere. Dovrà prendere la frusta per la seconda volta e scacciare i mercanti dal tempio, non c'è altro da fare. Grazie a Luciano Debei, credo che questa risposta la dica lunga, sia veramente molto chiarificatrice. Ti ringrazio per questa riflessione. Termina qui la seconda parte di questo nostro speciale di approfondimento pianeta oggi report. Grazie per averci seguito. E apre una parentesi. Noi emittenti locali, ecco che a differenza magari di qualche altro più grande, di qualche carro armato, abbiamo tutto l'interesse per far uscire dalla nostra antenne una informazione, una programmazione atta per un pubblico, un pubblico che per noi è da tenere in considerazione seriamente perché è un pubblico che deve crescere, non decrescere culturalmente. Bene, alla prossima settimana. Statemi bene. Grazie a tutti.